Il campionato di Serie D si ferma, almeno per quanto riguarda il programma originale, per due settimane. Comincia domani invece il Valzer dei recuperi, che proseguirà pure domenica prossima e mercoledì 28 aprile. Si parte con un tris di gare, Lavello, Team Altamura a Venosa, Casarano, Nardò al Capozza e Gravina Versa al vicino. Scontro diretto in chiave salvezza quest'ultimo, scontri diretti nell'accesa bagarre per i play-off i primi due. Quattro pugliesi e una Lucana in campo dunque. Il Team Altamura, in serie positiva da sei gare, riparte dal pareggio di Aversa e Lavello da quello di Pozzuoli. Cinque punti in più in classifica per gli uomini di Karel Zeman, ma i murgiani di Monticciolo hanno disputato tre gare in meno. La posta è in palio, sarà elevatissima. Vale molto perché innanzitutto vogliamo dare continuità ai risultati, perché stiamo facendo bene, muoviamo la classifica. C'è un po' di rammarico per qualche punto perso, però sappiamo che mercoledì è tosta. Incontriamo una squadra forte che sicuramente vuole arrivare lì in cima. Però noi non siamo da meno, dobbiamo essere bravi a recuperare l'energia in questi due giorni e poi vediamo mercoledì cosa succede. Derby, Salentino al Capozza tra Casarano e Nardò. I padroni di casa non possono perdere ulteriore contatto dalla capolessa Taranto per sperare ancora nella rimonta. I neretini, ormai salvi, vogliono divertirsi ancora e tentare l'impresa di classificarsi tra le prime cinque. Quello che dicevo qualche tempo fa vale anche ora, ancora c'è tempo per tutto quanto e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo che sono partite anche ravvicinate come in questa settimana che viene e quindi adattarsi a questo. Abbiamo questa partita mercoledì, dobbiamo cercare di creare il massimo. Ci andremo a giocare le nostre chance di vittoria come siamo soliti fare. Non siamo una squadra che sa fare barricate, che sa difendersi ad oltranza. Siamo una squadra che cerca di giocare a pallone, quindi ci andremo a giocare le nostre carte come è giusto che sia. Io sono convinto che sarà una bellissima partita e quindi che vinca il migliore poi alla fine. Punti pesanti, in palio anche al vicino il Gravina, a cui il successo manca addirittura da 12 partite. Cerca contro la Versa i primi punti della gestione De Candia. Gara, inutile nasconderlo, fondamentale per la stagione dei Murgiani. Ultim in graduatoria, fischio d'inizio su tutti i campi, previsto alle ore 15. Grazie a tutti.